Prima del via c'è chi si concentra e chi invece preferisce scherzare con le nostre telecamere Partiti! E come per i loro coetanei anche questi atleti si misureranno sulla distanza di quattro giri E Zanni della Valle Sabia che prova ad andarsene risponde all'attacco Cesaro della Monteclarense Fascinating new thing You're seen making one a temporary savior Fascinating new thing Don't betray them by becoming familiar I'm surprised that you've never been told before That you're lovely and you're perfect And that somebody wants you I'm surprised that you've never been told before That you're priceless, yeah you're precious I due piccoli atleti proseguono questa bella azione Sembra che saranno proprio loro a giocarsi la vittoria La 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 Nel gruppo però non ci si dà per vinti, è Rottini della Citi Bettoni che prova a riportarsi sui fuggitivi. Al traguardo la spunta Cesaro sui zanni e Rottini, quarto posto per comincini Lorenzo Della Hotelli e quinto per Carrara Paolo Della Cena.